Ciao ragazzi, video abbastanza veloce oggi, volevo fare un video abbastanza buono la prima per spiegare quello che è stato il mio percorso per fare il commentatore sportivo e l'idea di questo video mi è arrivata principalmente dal fatto che conoscendo tante persone che hanno intrapreso questa attività vengono tutti da percorsi completamente differenti dal mio, chi da percorsi più scolastici, chi da percorsi più dati dalla passione, chi da un ibrido delle due cose, come è stata la mia esperienza? La mia esperienza calcistica nasce insieme a me, nel senso che fin da bambino ho avuto una passione sfrenata per il calcio, passione sfrenata per il calcio che nasce indirettamente dai cartoni animati perché mi appassionai da piccolissimo a Olly e Benji che oggi viene chiamato Captain Tsubasa ma all'epoca era Olly e Benji con tutti i nomi diciamo inglesizzati del cartone animato di cui ho ancora i poster quindi nello studio da dove trasmetto quindi una passione che sicuramente ha un peso specifico nella mia vita. Da lì poi ho traslato la cosa al calcio, la passione per il calcio mi ha sempre preso fin da quando ero bambino e seguì il primo mondiale dove iniziai a capire qualcosa probabilmente il mondiale del 1990 quando avevo cinque anni dove già identificavo quali erano i miei tra virgolette miti, mi appassionai a Roberto Baggio, calciatore che poi divenne immenso e che seguì per tutta la sua carriera nonostante tutti i cambi di casacca anche quando non era nella mia squadra del cuore. Quindi da lì passione sfrenata per un cartone animato che mi porta alla passione per il calcio, passione per il calcio che mi porta a seguire questo sport in maniera viscerale, a praticarlo anche da bambino, da ragazzino, quindi a vivere questa cosa calcistica a 360 gradi. In seguito poi la passione per il calcio continuavo a nutrirla, mi appassionai ad altri calciatori, mi ricordo che da ragazzino mi piaceva veramente tantissimo la coppia d'attacco dell'Inter, Ruben Sosa, Dennis Bergkamp, Roberto Baggio stava alla Juventus e c'erano insomma c'erano tantissime dinamiche competitive ma oltre al fattore di tifo mi piacevano proprio determinati calciatori nelle varie squadre che sono poi quelli che mi hanno appassionato questo sport. Mondiale 1994 mi appassionai alla coppia d'attacco Romario Bebeto che in simultanea aspettavano di incontrare l'Italia di Roberto Baggio in finale quindi da lì la passione per il calcio è continuata e maturata negli anni in parallelo la passione per la musica. Perché dico la passione per la musica? Perché da qui che arriviamo al ponte, al tramite per arrivare poi a parlare di calcio in televisione. Da lì dalla passione per la musica portata avanti per tanti anni e sempre anche un po' associata al calcio perché mi ricordo che nelle canzoni facevo spesso citazioni calcistiche. 2010-2011 feci qualche canzone calcistica mirata a inni per squadre di calcio locali, canzoni dedicate a personaggi di Olly e Benji. Mi ricordo che feci la canzone su Mark Landers che ho tatuato anche sul braccio quindi la mia passione per il calcio e per quel cartone è sicuramente un qualcosa di degno di nota. In seguito a quello cosa successe? Successe che in un momento in cui trascurai un po' la musica mi fermai per qualche tempo quindi ho detto inizio a fare canzoni che riguardano quello che mi piace e mi imposi tra virgolette decisi di fare questa serie di calzoni calcistiche, di impostare un progetto, una progettualità di fare qualche canzone calcistica dedicata o a calciatori che mi piacevano, che mi interessavano per lo status che si erano creati o semplicemente canzoni a tema calcio senza un vero e proprio scopo finale ma con l'intento di divertirmi. Partì facendo una canzone dedicata a Rajan Angolan che per fortuna mia e anche per stupore mio girò parecchio perché fu spinta da determinati youtuber di calcio, interisti che la sentirono in rete, girava già parecchio nelle storie, erano gli inizi in cui nelle storie di Instagram si potevano inserire le canzoni prese dai digital store, presi un po' di confidenza anche con il discorso digital store perché ero un po' fuori, ero un po' diciamo avevo abbandonato il giro ed ero rimasto un po' alla musica caricata su youtube tramite videoclip mentre invece qui arrivai sia su spotify che su youtube. Tramite le storie di Instagram e tramite il videoclip che girò abbastanza bene il pezzo girò tanto nel senso che per quelli che erano i miei standard Angolan fu un pezzo molto ascoltato per l'epoca e parliamo del 2019. In seguito progettai una traccia insieme a Nema che è un rapper di Parma storico della Golden Age italiana, raggruppammo diciamo un po' tutta la scena italiana rap a cui piaceva il calcio e organizziamo questa Posse Track 442 dedicata a quello che è il calcio nostalgico, quello degli anni 90, quello con cui siamo cresciuti, eravamo tutti over 30 anche chi over 40 all'interno della traccia quindi un progettone. Da questo progettone nacque un videoclip e fu diciamo un secondo colpo calcistico ma tra le due tracce la cosa che scatenò diciamo quelle che sono state poi le mie comparsate televisive fu l'incontro con il giornalista di tele stesse Nicola Franceschini e ci incontrammo casualmente al concerto di Baby K a Lido Nazioni ovvero nel posto dove abito io. Io usci di casa fu invitato da amici che erano nell'organizzazione e che erano anche nell'amministrazione locale del territorio che mi diedero un pass per assistere al concerto di Baby K. Non che il concerto fosse la cosa che mi interessasse più della serata però sapevo che c'era da bere, c'era da stare in compagnia. Sono andato volentieri a prendere parte, a presenziare a questa serata e mi sono anche pure divertito. C'era pure il frigo bar a disposizione e ne abbiamo approfittato. In quel momento conobbi Nicola Franceschini che mi vide nel backstage e mi disse ma Max ma sei quello che posta le canzoni calcistiche sui social? Sei quello di Facebook? E quello che mi disse ti seguo e io reciprocamente dissi sì sono io ma ti seguo anche io e da lì mi propose di partecipare alla trasmissione calcistica che conduce su Telestense che è l'emittente della città di Ferrara di cui qua siamo in provincia anche se siamo al mare siamo tutti nella stessa provincia e parlo per chi non è del territorio magari si ascolta il video. Accettai di buon gusto nel frattempo però passare passò anche qualche mese la stagione calcistica era ferma chiaramente restate era ferma stava per riprendere la nuova stagione calcistica quindi di conseguenza anche il programma sull'emittente uscì la canzone alla fine del 2019 diciamo e poco tempo dopo mi contattò Nicola e mi disse sei pronto facciamo la puntata dove vieni ospite e mandiamo il videoclip 442 dal momento che comunque è una canzone calcistica e c'entra con il programma avremo piacere di averti ospite commentare la partita mi pare che quella partita fu Spal Sassuolo o Sassuolo Spal non mi ricordo chi giocava in casa andai partecipai alla trasmissione e mandarono il videoclip alla fine devo dire la verità mi senti abbastanza a mio agio erano tutti molto accoglienti nel senso che il programma era molto 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 accomodante molto che mi metteva a mio agio quindi non ebbi particolari problemi a portare a casa la puntata e la presenza che feci in veste di cantante cantante a promuovere il mio lavoro il mio progetto è una piccola polemica contro Achille Lauro quindi ma più che polemica penso che debbano vincere le canzoni in qualsiasi contesto anche dove non c'è una gara cioè non debba vincere il costume ne venni fuori abbastanza contento nel senso che poi andai a casa mi riguardai la puntata anche se riguardando adesso quella prima puntata mi vedo ad oggi molto impacciato e molto più timoroso della telecamera rispetto al rispetto ad oggi oggi diciamo che dopo un centinaio di puntate sono sono molto più sereno molto più tranquillo anche molto più spigliato con un lessico anche più sviluppato e più calcistico la settimana dopo mi ricontattò il conduttore del programma mi disse ma verresti ancora a fare l'ospite andai la domenica successiva la domenica successiva fu quella in cui sospesero il campionato per via del covid quindi una puntata molto particolare una puntata dove ci ritrovammo in tanti ad alternarci nello studio con anche il direttore dello sport del canale con i giornalisti insomma fu una puntata particolare perché il campionato venne sospeso quindi da lì maturai un'ulteriore esperienza nello stare a contatto anche con altre personalità e forse maturai anche un po' più di consapevolezza già dalla seconda puntata di quello che era una trasmissione televisiva i tempi tecnici della pubblicità sapere quando il tuo momento di intervenire quando è il momento invece di lasciare la palla agli altri e quando la situazione va un po' smorzata e quando invece si può accendere diciamo che da lì maturai maturai veramente un'esperienza che mi fece capire anche questo è il mio mondo questo è quello che mi piace e se mi dovessero chiamare ancora lo farei verrei veramente con piacere a prendere parte a iniziare il mio percorso in questo mondo tu sei anche della zona dell'Ido delle Nazioni giusto quindi poco distante in quella che è l'area del avrei suggerito anche delle belle mangiate di pesce fatalità volle che la settimana successiva poi Nicola mi disse ma cosa dici se dal momento che non possiamo fare il programma con tutti in presenza perché iniziarono i primi protocolli covid mi chiese se avesse avuto piacere di fare i collegamenti da casa per commentare la partita via skype e prendere quindi parte del programma da lì iniziai ad essere diciamo il collegato fisso nel senso che gli ospiti diciamo tradizionali del programma rimanevano in studio mentre invece io facevo il collegamento da casa ed ero il collegato ma sembra quasi che in realtà la partita vera e propria sia iniziata quando la spalla pareggiato fino a quel momento abbiamo parlato di una partita veramente brutta e priva di occasioni da gol nitide ecco come diceva Matteo io quei colpi di sacco in serie B al limite dell'area sono cose che non voglio vedere all'azione dopo gli faccio volare il malleolo cominciai anche a ruotare la presenza da collegato con la presenza in studio e iniziai a diventare a impianta stabile un un componente del programma e la cosa mi fece anche crescere un po lo status territoriale perché iniziava a conoscermi molta gente dell'ambito calcistico dell'ambito sportivo e questa cosa iniziava veramente ad appassionarmi tanto questa passione che ho sempre avuto per il calcio e la musica che mi ci ha fatto arrivare a poterla sfogare questa passione mi fecero scattare una molla anche di professionalità infatti mi informai per poter prendere parte magari a dei corsi che potessero attestare e qualificare quelle che erano delle tra virgolette competenze calcistiche ma anche giornalistiche mi iscrissi a un corso di formazione calcistica per cronaca e telecronaca tenuto da il football center che era diretto diciamo da quelli che sono i telecronisti di da zone un corso che durò una settimana che ebbi la fortuna di poterlo fare da remoto sempre perché il covid aveva cambiato i protocolli se avessi dovuto farlo in presenza e avessi dovuto andare ad esempio a milano a fare un corso non me lo sarei potuto permettere per quello che era il mio lavoro principale feci questo corso online già fui fortunato a poter entrare in questo corso che era numero chiuso e mi ritrovai a fare questo corso prettamente con gente che stava studiando comunicazione mentre io entrai probabilmente perché avevo già un curriculum di presenze televisive che avevo inserito nella domanda di iscrizione numero chiuso in cui entrai e portai a casa questa certificazione che mi servì tanto perché capì tanto anche del mondo televisivo del mondo calcistico televisivo e di questa cosa ne vado veramente fiero a capire cos'è un running order capire come gestire anche una telecronaca di una partita dove non si conoscono le due squadre dove c'è una preparazione e ci sono dei trucchetti e dei 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 giochi da poter fare per semplificarsi anche una telecronaca di due due squadre che sono composte da calciatori di cui sappiamo poco e che sappiamo anche poco riconoscere distinguere in campo perché la professione ti può portare a commentare anche lavori di questo tipo arrivati a questo punto terminata questa esperienza io continuai con la musica a promuovere la musica e a promuovere questa canzone 442 che conteneva al suo interno tutta la scena rap italiana che era dedita al calcio partecipai a un concorso di un'altra emittente televisiva che era tenuta dall'emittente veronese radio adige tv partecipai con la canzone 442 al primo concorso musicale tenuto dall'emittente teneva in considerazione il voto da casa ovvero con i like su facebook e instagram più era collegata ai voti della giuria dell'emittente alla fine di tutto questo arrivai a partecipare alla finale ci furono 62 concorrenti arrivai nei primi 8 e quella sera che viene trasmessa in tv su quell'emittente sul digitale terrestre sul canale 640 mi decretò il vincitore della della manifestazione e anche lì fu un grande colpo mediatico a livello territoriale del nord italia che associava il discorso calcistico con quello della musica stamparono 10.000 coppie di pantheon che è un mensile che esce a verona e quindi in 10.000 coppie finì in copertina dentro si trattava di do di battaglia dei pu e di cantanti comunque affermati e finì in questo mensile è un periodo fortunato e che riempie di entusiasmo sono veramente felice di avere portato a casa questo premio progetti sicuramente ci sono uno barra due dischi che poi vedremo come svilupparli nei prossimi giorni devo dire la verità provocò anche tante invidie perché ricordo anche il silenzio di tanti tante persone vicino a me che non si complimentarono nemmeno e allo stesso tempo mi avvicinò ad altre persone e ad un altro mondo diciamo che è una cosa che accolsi con piacere questa della visibilità perché era fondamentalmente quella che mi mancava e da lì iniziai anche a fare dei lavori per quest'emittente purtroppo la distanza non mi mise nelle condizioni di poter lavorare in pianta stabile in un emittente di una tv che sta a oltre due ore da casa mia e che magari non si andava neanche a incastrare con quella che era la mia attività a telestense però mi viene degli spunti mi fece conoscere tante persone con cui collaboro ancora oggi infatti ogni ogni tot tempo facciamo collegamenti per quest'emittente televisiva dove faccio il mio punto sulla nazionale condussi anche una puntata pilota di un programma che poi per motivi credo commerciali non andò in onda ma non vorrei sbagliarmi dove lo condussi dove lo condussi io da conduttore e andai in onda per tre ore diciamo nella prima esperienza da solo alla guida di un programma esperienza che comunque mi è servito e che non mi ha non mi ha spaventato mi sono inserito in questo ambiente dove adesso sto cercando di lavorare al meglio nel senso che mi sto ritagliando i miei spazi sto studiando per avere un altro tipo di certificazione tutto questo discorso per arrivare dove tralasciando il fatto che oggi pomeriggio ho una puntata di match ed è la cosa che mi piace di più fare televisione parlare di calcio in televisione e questa cosa forse ha oscurato anche un po quella che è la mia passione per la musica passione per la musica che però ne ha giovato perché ad esempio io nell'estate scorsa sono uscito con un singolo dedicato al territorio e il fatto di essere bene inserito in questi contesti televisivi regionali mi ha dato l'opportunità di poter spingere la mia musica di poter essere al telegiornale di poter avere servizi di poter essere riconosciuto per strada sia come commentatore sportivo che come cantante il pubblico che si divide a metà tra le due cose e quindi questa cosa ha giovato anche alla musica anche se da un certo punto di vista un po l'ha messa in secondo piano per quella che è la mia passione mi piace molto di più probabilmente e qui magari in tanti si arrabbieranno fare televisione piuttosto che andare in un clabbettino di provincia a cantare le mie canzoni quindi diciamo che questa cosa ha ribaltato anche i pesi specifici delle mie passioni delle passioni che ho nella vita tutto questo per arrivare a dove e a cosa per arrivare a fare quello che ci piace in questo caso per arrivare a fare il commentatore sportivo cosa mi è servito il talento lo studio la fortuna una serie di combinazioni la passione mi viene da dire tutto 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 è una componente importante se non avesse avuto la passione sicuramente non ci sarei finito se non avesse avuto un po di fortuna sicuramente non ci sarei finito se non avesse avuto la voglia di imparare probabilmente non sarei stato pronto a cogliere determinate occasioni quando determinate occasioni mi si sono presentate il fatto di essere già abituato a stare su un palco è una cosa che mi ha agevolato il fatto di saper stare davanti a una telecamera che non è la stessa cosa e quindi serve anche impegno e serve anche esperienza per arrivare a maturarlo ma allo stesso tempo mi ha spianato un po la strada e mi ha agevolato il compito per tutti quelli che hanno una passione e vogliono farla diventare diciamo una cosa importante una cosa una parte attiva della propria vita se non il lavoro principale è di crederci di studiare di cercare di imparare da chi dentro il mestiere c'è da più tempo e lo fa in maniera professionale e allo stesso tempo di andarsela a cercare anche un po la fortuna di conoscere persone di cercare di apprendere ad avere uno scambio da queste persone di essere se stessi perché alla fine se avete un personaggio che va di pari passo con la persona e non è qualcosa di totalmente costruito magari nel breve ha bisogno di fortuna ma alla lunga viene fuori e potete togliervi le vostre soddisfazioni detto questo io non vorrei passare per quello che ce l'ha fatta o per quello che è arrivato all'obiettivo massimo però vi posso dire che arrivato già a questo livello già al fatto di avere partecipato di partecipare in pianta stabile a delle trasmissioni calcistiche che trattano la serie a la serie b la nazionale è un qualcosa che mi dà tanta soddisfazione quindi quello che vi consiglio è andate incontro a quella che è una cosa che vi può dare tanta soddisfazione più che i sogni di gloria la gloria è diciamo una fetta della soddisfazione ricorrete sempre quello che vi piace poi a vari livelli lo raggiungerete non è importante se vi piace se vi piace il calcio diventare caressa potete diventare qualcos'altro potete appassionarvi a qualcos'altro l'importante è che la vostra quotidianità venga riempita da quello che vi piace dopo tutto questo mega pippone come si dice in gergo dove vi ho raccontato il mio il mio escursus io vi saluto vi invito iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e se ne avete voglia e vi saluto alla prossima magari ditemi la vostra qui sotto se ho tralasciato qualcosa ve lo ve lo inserirò magari in altri video gesticolo ancora come i rapper si vede seguitemi su instagram anche e ci sono i link sotto seguite spotify se volete andare a sentire le canzoni io vi ringrazio per tutta la grande attenzione e vi aspetto alla prossima ciao dal vostro amico max fogli ciao